in questo momento mi trovo fuori della basilica però per visitare la basilica attraverso una realtà aumentata guardate vi mostro questo supporto è un supporto che è stato realizzato e voluto dal comune dell'aquila attraverso questo supporto inserendo il telefonino si può vedere la basilica con degli occhi decisamente importanti grandi in questo momento mi trovo di fronte alla porta santa una porta che viene aperta ogni anni il 28 agosto stefania per quale motivo proprio in questa data il giorno dell'incolonazione celestino fece un atto straordinario nel vero senso della parola concesse un indulgenza plenaria per i poveri che in qualche modo non avrebbero potuto ottenere la possibilità della remissione dei peccati infatti arrivare al paradiso non dipendeva più dal conto in banca questa indulgenza è un'indulgenza particolare è un giubileo particolare legato praticamente a una giornata quindi attraverso la porta santa attraverso l'indulgenza plenaria tutti potevano e possono oggi ripartire un nuovo un nuovo start e la possibilità di elevare l'anima senza soldi senza pagare nulla un nuovo inizio per una città che è stata distrutta da un terremoto e da terremoti anche nel passato che però ha questo desiderio di riprendere in mano la vita insomma che si era spenta per un breve periodo